Perfetto Poi Che cacchio è questo coso? Abbiamo dei dischi Che cos'è? Overhead via Allora ce ne dovremmo avere uno gratis Però non ci abbiamo Ah lo so io che è Zitti 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 ho capito Che cos'è? È un labirinto ragazzi Che più che un labirinto va a dischi Noi dobbiamo arrivare dal punto dove siamo Fino al punto rosso Trovando il disco giusto che ci apre la strada Ma che sei a di? Prendi i dischi Questa sarebbe una mappa Se li prendi non vediamo la mappa Ah no Sì sì nella mappa ce la vede una Penso non tutti Forse uno avanza Io non l'ho presa Se la volete la Perde Ok questo è sbagliato di disco Perfetto Chi è se ne frega Come si fa a vedere Quando il disco giusto Si apre Eh volta qui Si è aperta Cerchiamo di star vicini Quindi adesso noi dobbiamo andare La strada più rapida Sarebbe andare di qua E poi tagliare dritto a L Proviamo Ok questo è sbagliato Oh no Si era aperto Chi l'ha preso? Io no Eh sì mi sarebbe solo per sbagliare Guarda un po' Ok Allora forse mi hai tornato a me Eccolo Ok andiamo Allora Digi Proseguiamo verso di qua Perfetto Vediamo un po' Questa sembra veloce però Oddio non canta di vittoria Ok questo è sbagliato Sì il danno Se te levi magari non Non mi preghi Voglio vedere Voglio vedere Voglio vedere Sto ficcati di Voglio vedere Voglio vedere Stamadosca Aia Regà ma siete sicuri che però Andavanti c'è una stanza che si apre Magari poi rimaniamo bloccati Allora Non so per scrivere Ma mi sembra entrava Ma figli che le stanze però Mi le siano a piacere Sì il problema è che diventa Un rincoglionimento Qui ce n'è una che va nel vuoto però Sì Oh cazzo Perché ce n'è una che va nel vuoto? Prendiamo tutti indietro In effetti penso che Dobbiamo prendere un'altra strada Vediamo un attimo Riprendi i tcd però E io sto a prendere tutti i tcd Ma qua c'è stata una scarletta No cos'è? Chi era? Perché sta nel muro? No Perché Era una trappola quella Allora ok Allora Ah buon'ora Allora Ma là qual è la stanza? E allora dobbiamo andare per di qua raga Ehm La ma Di qua No aspetta 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 no Qui è giusto Qua è chiuso quindi va Qua dice Hildan vieni Dove? Era quella che abbiamo aperto Ah le scale dici? Però c'è C'è qualcosa che fa saltare Ah aspetta un po' Aspetta un po' Aspetta un po' Aspetta un po' Leva un po' Leva un po' Leva un po' Ma che cazzo Setti non ci credo mai E do jumpy poi Eh quello voglio capire Sembra tutto chiusa Alla stanza Sembra una presa per il culo A me mi dà tanto di presa per i fornelli E beh ma di qua non ci sono altre E allora forse quella si aprirà in qualche maniera E beh Che se è l'unica strada che possiamo percorrere Allora devi rimettere tutti i dischi quindi Ma non li buttare così che poi me li fai usare gli stessi Ma qua dice c'è una stanza ma non c'è Ok allora aperto Il problema è che qua c'è sto cazzalala di muro Che non comprendo Aspetta eh Che poi dopo comincia pure a rompermi le scatole e sta musichetta Chi è che butta i dischi Levate le No mio è il Dan Il Dan Io non ci sono Aspettare i dalle dischi Sì ma se mi vedete in quella maniera io li metto gli stessi Mmm c'è qualcosa che non va Si mettono dentro l'inventario nella stessa maniera C'è qualcosa che non mi cosa neanche a me infatti Chi è si è fregato a dire Però l'hai chiuso quindi non possiamo neanche passarci No non c'è nulla là sopra Questo non si apre Questo non l'apre E questo non lo apre Eppure la mappa segna che Ma c'è fatto caso Aspetta aspetta Che ce ne sono due Eh quello che stavo a vedere pure io Eh C'era pure questo Eh ca miseria Ma mi scordo pure che sto commesso Il Dan Questo serve solo a farlo aprire Ti odio Marduk Dimmi Mi scusi però Torni un attimo qui Aspetti un attimo Ma che cosa sta facendo lei Lurida drogatella Torni qui Cosa sta facendo Sto mettendo i dischi nella seconda Signor Fantozzi Per favore Secondo me la seconda serve Solo per far aprire Quanti dischi hai Allora 3 6 7 8 2 C'è io Torna pure qua Torna indietro Vieni il disco Torna indietro Oddio Metti un altro disco Che non sia quello Metti un altro disco Che non sia quello Che ho appena tolto Eh ha messo lei Vedi che funziona lo stesso Cioè Bisogna trovare il disco Veramente giusto Altrimenti Non ti apre Correttamente la stanza What the fuck Vieni qua Morduk Vieni qua Quindi è possibile Che qua ci siamo sbagliati No però Non apri con tutto Perché devi Non serve a niente Se posso ne recuperare I dischi ce li abbiamo tutti No Come no No 6 7 8 9 10 Ne abbiamo salì due Per aprire i portali Quindi No nel senso Tutti come persone Non abbiamo tutti quanti Non ce li possiamo Abri tutti quanti Chi è che è successo Perché stavano 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 Raga Però dovete Dobbiamo capire Quello che dice Non vi state cagando Con il problema Uscite da stanza Sì l'ho capito Che bisogna trovare Il disco giusto Metti un altro disco Vedi che ha cambiato la stanza Vedi C'ho ragione Ottio mio Così non riusciremo mai Quello che stavo Di purio Ma non È stato il primo Che sia entrato là Stronzo Perché volevo Pichier Una strada Che gira a sinistra Fermi Ok questo non è Questo non è Perché c'hanno due No Non dobbiamo gira a sinistra Morduk Dobbiamo andare dritti No 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 Guarda Oddio che cos'è Adesso appena entriamo in questa stanza Devi andare a sinistra Invece muova a destra Guarda Ah ok Capito Quindi è sbagliata Vai Ok vai Continua a mettere i dischi Questa è Questa è Giusta Sì Fermo Perché noi dobbiamo andare a sinistra Vai Niente Questo che c'ho Non funziona Neanche questo Vai Prova i tuoi Vai Che brutta cosa Che si è inventato Stodice Allora Dobbiamo andare dritti Noi è giusto Guarda un po' Se c'è la porta Perfetto Sì dritti Sì dobbiamo andare dritti Allora Vediamo la mappa Ancora dritti Questa non va dritti Fa le scale Continua Hilda Continua Ciao Winfair Agito le braccia Guardami Questa dove va A sinistra No è sbagliata Allora Però pure se va a sinistra No Se va a destra Va bene Diciamo No Deve andare dritto Va bene No Gira a destra Deve andare dritto Per forza Deve andare dritto Perché sprechi più dischi Così Ah ok Non gli arrivi Rientro Scusate Ok Però aspetta Ce l'hai due altri dischi Aspetta Fermi Guardate i colori Sulla mappa Sappiamo che quello bianco Ci fa girare a sinistra Quello blu a destra E quello arancione Ci fa andare dritto Ci serve quell'arancione Ce l'avete quell'arancione? Quella no Io non ce l'ho Ce l'ho a mezzo giallo Allora siamo nella merda Vuol dire che i dischi Sono contati C'avete dischi voi Tu e il Dan Quinnfer No Siamo nella merda 3 4 5 Dei dischi diversi Io ho uno L'ho trovato Significa che siamo Nella merda Siamo nella merda Penso che dobbiamo Per forza girare Non verso Non verso lì Perché possiamo andare Viti e gira ancora Però Io ho notato Che quando abbiamo preso I dischi Nella cazza Ci sono delle freccette Che cosa? I dischi Dicevo Quando abbiamo preso I dischi Nella cazza Ci stavano le freccette Disegnate sui dischi Davvero? Ce ne siamo fottuti Perché siamo dei geni Secondo me questa non va male Proviamola Ma qua dovremmo andare dritti Per forza No Possiamo fare Possiamo fare Le scamotage Dobbiamo andare di qua E andare dritti Sì Possiamo fare Le scamotage Che cazzo No Hai fatto una cazzata Perché? No Hai fatto una cazzata No No va a destra Questa va a sinistra Addirittura No Non va bene Eh si torna qua Non va bene Eh si Alla Aspetta ma qui c'è roba raga Lo so che c'è roba Non serve a niente Chi te l'ha detto? Vieni che dobbiamo trovare l'uscita Non dobbiamo prendere la roba Che vuole una roba No Questa non fa nulla Gli alti dischi Chi ce l'ha? Io c'ho questo Io sono solamente quello bianco Ma mettete Non funziona Non funziona C'è abbiamo doppioni Inizia a pensare Inizia a pensare Che fin dall'inizio Dovevamo sfruttare Quelli che girano Perché di come è la mappa Dobbiamo sfruttare Prima quelli che girano E poi E poi quelli dritti Li dobbiamo sfruttare bene Perché ce ne abbiamo solamente due Quindi riprendete tutti i dischi Mentre tornate indietro Grazie Ma no in realtà Noi dobbiamo girare alla fine Sennò come vai nel punto rosso Non puoi sfruttare tutti quelli che girano Sennò non giri più Allora tu giri Ok Al primo quadretto verde Dove sta il blu Lo vedi? C'è la mappa Sì pure secondo me Al secondo quadretto Bisogna mettere che gira Usare lì per andare a destra Quelli che abbiamo già usato Vada a risettare Vabbè aspettate Vada a risettare Vada a risettare Se non gli manco E penso che se risetta Ti fai tornare indietro Proviamo Ok allora risetto Sto morendo Sto morendo Sto morendo Però comunque Se vedete Sui dischi ci sono le frecce Oh finalmente il command book Di nuovo Andiamo a controllare Prima di pigliarli dischi Posso farla int Visto che non abbiamo fatto Il consiglio Mi fate morire per favore Allora Tanto sono quasi morto Ecco la morta Morta Eccomi Sofocated In a wall C'ho un disco verde comunque in mano Ve lo metto nella cassa Come c'è il disco verde? Ti è rimasto a destra Dicevo Sì Hai visto i cd Ci stanno le freccette sopra? No non pigliateli Ve la appoggio qua No non ci stanno le freccette Come non ci stanno le freccette? C'è però il nome Allora Ah ci stanno le freccette Vero? Sì Buongiorno Allora facciamo una cosa Io prendo quelli arancioni Che sono quelli che vandano dritti Regà a me è rimasta una mappa E un disco Io l'ho messo nella cassa Però penso che sia Vabbè Non lo prendiamo Chi se ne fotte Prendete le mappe Ve lo metto qua? O me lo metto nell'inventario Così non lo uso? Come ti pare? Allora Ok Fermi tutti Allora adesso ci serve Il primo che hai messo Morduk Guardate le freccette Che è quello che va Che è quello che va a destra La freccia che va a destra Quindi diritto a destra È quello rosa Quello centrale È quello rosa Questo qua Guardate le freccette E prendetevi secondo l'ordine Che vogliamo andare Perfetto Così deve essere Vedi? Ti capisci? Adesso mi serve quello che va Dritto a sinistra Quindi deve essere Aspetta dritto a sinistra Dritto in alto Quindi dovrebbe essere Questo qui bianco Oh sì Eh è giusto Se torniamo indietro Spendiamo i dischi Che ci servono Sì è giusto Adesso dobbiamo andare dritti Per forza Quindi due dritti Dobbiamo mettere Il dritto Che è questo Ma uno dritto Ce lo dobbiamo tenere Che non funziona E non funziona Porca la puttanella Chi mi si è fottuto Lo dritto Vabbè morduk Vero tranquillo Ma se metti Il dritto A destra E dove gira Scusami Non vedi che c'è il vuoto È vero C'è il vuoto C'è il nero E significa Significa Non si può così Come fai Non puoi sprecare Allora Ho capito Quello O sprechi il dritto Dell'altro Spreghi Il destra È uguale Sono tutti due dritti Resettiamo di nuovo Rega L'unica soluzione Che cosa è questo verde Scusatemi Dice su e giù Non lo so Permette di fare su e giù Ahah Ahah Eccolo tenere Ahah 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 Adesso abbiamo prosegui Eh Dritti a destra Sì Quindi ci serve Adesso lo vado a prendere Ma Ma sentiamo Se li vio tutti No Perché poi non sai Le progette dove hanno No No me lo dice Basta che ci passo sopra Ah Finché non l'hai messa E te lo dice Infatti mantieni De uno per tipo Eh sì Se no non te li ricordi più Perché diventano music disc Quando li cacci Eccolo qua Ok Adesso 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 possiamo fa Adesso Morduk Ascoltami Possiamo fa il trucchetto Del snake Te lo ricordi Sul Nokia Sì a sinistra Qui esatto Vai col sinistra Mi sa che non ce l'ho Sinistra Vai Perfetto Ok Adesso mi serve quello Che va verso destra Sì adesso A destra Perfetto Ok Eeeh Di nuovo a sinistra Se ce sta Tanto ce ne erano di più Aspetta Voi che dischi ci avete? C'è questo Tieni Ve li passate tutti per fuori? Tieni No perché ha tenuto a me Oh Ti è Ah Da lontani Grazie Ok Ti fai in favore Alla comunità italiana Eeeh 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 Allora Io voglio fa una cosa No dritto no Non te conviene Dai calmo Possiamo sempre tornare indietro Io devo abbassare la musica Infortuni ce l'ho un po' abbassata Se no Diventavo scemo Ma come facciamo? Qua serve dritto Eeeh No Qua serve No Da dietro Bisogna Non andare in su Ah Sì Ok Quindi spero questo Torniamo indietro Torniamo indietro Torniamo indietro Levate Aspettate Dai 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 Tornate indietro Perfetto C'è è arrivato a me Ce l'ho io Tieni Vai in su Poi vai dritto Vai su Poi vai dritto Sì Giusto? Sì Giusto Adesso bisogna più uno che va verso di qua No vado dritto Perfetto Vai 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 Beh nel senso andava in su Perfetto Perfetto Sinistra E uno l'ultimo dritto Vai 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 Ok vai vai Perfetto Mamma mia sono un genio Via 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 Sì Cazzo Che c'è E questo che va? E Perfetto 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 Perfetto